Adesso vediamo come realizzare un piano marketing. Il piano marketing è un po' la stessa differenza che c'è a scuola tra chi studia all'ultimo minuto e la sera fa le ore piccole per recuperare e chi invece studia per tempo e il giorno prima va a giocare con gli amici. Chi mi conosce da anni sa che io dico sempre una frase, che il giorno prima di un progetto importante la tua unica preoccupazione è darti lo smalto alle unghie, per le signore naturalmente, per voi uomini invece vi dedicherete ad altro. Cosa vuol dire? Che pianificare in tempo una strategia annuale per il tuo business ti aiuta a non trovarti in emergenza e un piano marketing non può essere gestito rincorrendo le scadenze dell'ultimo minuto. Il piano marketing è un documento che è indispensabile e ti indica le tappe, le attività e le risorse che allocherai nella pianificazione. Non ti serve solo a raggiungere degli obiettivi che ti sei prefissato ma anche a capire come la tua azienda dovrà affrontare l'anno successivo, cosa devi correggere, cosa eliminare, cosa è andato bene e puoi ridoporre.